salve a tutti gli utenti di mondo napoli finisce il posticipo della trentaduesima giornata tra lazio e napoli un match spettacolare ricco di gol ben sette cinque da parte degli azzurri e due da parte della lazio dopo i primi quattro gol da napoli che portano le firme della doppietta di lorenzi in signe un gol di politano e un gol di dris mertens ciro immobile e milinkovici savi ci accorciano le distanze poi il bomber nigeriano victor osimen chiude il match sul punteggio di cinque due adesso analizzeremo il top flop stilato dalla redazione di mondo napoli come top da come possiamo vedere in grafica abbiamo matteo politano il voto è otto l'italiano gestato il migliore tra i suoi assegnato il gol da zero ed è stato uno dei più reattivi in fase offensiva ha creato tantissimo mettendo in difficoltà la fascia sinistra dei bianco celesti lo zano è ritornato all'infortuno ma politano sembra proprio essere intenzionato a non lasciargli il posto infatti oltre ad essere un calciatore molto utile per spaccare le partite nella fase finale del match sta dimostrando di essere una valida pedina anche da titolare mentre per il flop c'è alex meret il portiere azzurro sempre un poco quasi incerto e poco sicuro fa ancora difficoltà nelle uscite e non ha una grossa intesa poi con la difesa nel primo tempo era stato anche battuto da un tiro di del tucco correa che però per fortuna gli azzurri si è spento sul palo inoltre l'italiano sicuramente poteva fare qualcosina in più sulla punizione di milico vicesavic inoltre vi ricordiamo di continuare a seguirci sul profilo facebook e instagram con il nome di mondo napoli page sul canale youtube mondo napoli channel e sulla chat mondo napoli chat per restare sempre aggiornati e non perdevi il prossimo appuntamento di top e flop dopo la partita torino napoli valida per la trentatresima partita della serie a vi ringraziamo e vi salutiamo e vi ringraziamo soprattutto del vostro supporto che ci mostrate